Il Comitato ha sempre seguito i passaggi istituzionali previsti per la realizzazione di iniziative all'interno dei cantieri, tra file burocratiche non sempre del tutto condivisibili, a volte clamorosamente perverse, che vedono gli uffici comunali contrapposti l'uno con l'altro, con l'unico risultato di offrire lo spettacolo di una macchina del tutto paralizzata. Abbiamo percorso queste strade con l'idea di un necessario riconoscimento reciproco tra cittadini e istituzioni, pur nella crisi della politica. Ma abbiamo riscontrato una serie di funzionamenti dannosi per tutti, che dipendono in modo del tutto inaccettabile da meccanismi poco trasparenti e regole poco chiare, soggette alla buona o cattiva volontà di questo o quel dirigente e non dal perseguimento del vantaggio della comunità. Applauso!